Arriva dalla Georgia la peste suina che sta minacciando il territorio dell'Appennino tra Liguria e Piemonte. Grazie all'analisi di laboratorio effettuate, conferma Lisa, l'origine del virus che fino a oggi ha colpito alcuni animali selvatici è stata ricondotta proprio all'area del confine tra Europa e Asia. Il fatto poi che buona parte delle carcasse risultate infette, ad oggi 7 su un centinaio ritrovate dalle squadre che hanno battuto i boschi in questi giorni, sia stata trovata nell'area tra Liguria e Piemonte, ricompresa tra le due direttrici autostradali, la A7 e la A26, fa presumere che la malattia sia arrivata proprio dall'est attraverso un trasporto. Il virus, che lo ricordiamo non colpisce l'uomo o altri animali, è molto resistente. Potrebbe essere sopravvissuto sulle gomme di qualche tir fermo in un'area di sosta, oppure portato in Italia in un alimento gettato che sarebbe poi finito preda di qualche cinghiale. Le ipotesi possono essere diverse, ma di certo la prima carcassa ritrovata era proprio nei pressi dell'autostrada. Un'infezione che comunque non lascia scampo agli ungolati che la contraggono, che muoiono nel giro di pochi giorni. Prosegue dunque l'opera di delimitazione dell'area dell'infezione, ad oggi concentrata appunto nella valle dello Scrivia tra Liguria e Piemonte. A fine mese si concluderà il lavoro delle squadre di caccia e si passerà alla seconda fase del piano di contenimento del virus. A questo proposito si è parlato di questo nella riunione che si è svolta a Roma tra i governatori di Liguria e Piemonte e i ministri Speranza e Patuanelli. I presidenti Toti e Cirio hanno proposto come commissario per la gestione dell'emergenza Angelo Ferrari, direttore dell'istituto sperimentale zoo profilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Un commissario che si occuperà di gestire per conto delle regioni e del governo questa emergenza, un pacchetto di ristori per le nostre categorie, nella speranza di circoscrivere al più presto e poter riaprire al più presto un pezzo importante del nostro territorio. Sono state portate tutte quelle che sono le istanze dell'associazione di categoria di Regione Liguria e di tutti i soggetti coinvolti dal punto di vista ovviamente economico da queste restrizioni.